Integrazione, fratellanza e pace si fonda principalmente su questi tre temi, la 721esima edizione della perdonanza celestiniana, primo giubileo ante litteram della storia istituito da Papa Celestino V all'Aquila alla fine di settembre del 1294. Per la prima volta nella storia della manifestazione d'origine medievale, la dama della Bola del Perdono e una trentenne straniera, Roxana Leandra Oliveros Garcia, arrivata all'Aquila da Caracas dopo il terremoto del 6 aprile 2009, per dare una mano come volontaria nelle tendopoli all'Aquiliani sfollati. Mirko Schiavone, allievo della scuola sotto ufficiale della Guardia di Finanza, sarà invece il giovin signore, mentre Elisabeth Cirilli interpreterà la dama della croce. La vera novità però, come ha spiegato l'assessore Alfredo Moroni, è costituita dall'accensione del Tripoli della Pace, che quest'anno avverrà davanti alla Basilica di San Bernardino. Una delle novità di quest'anno è il nuovo Tripoli, un'opera d'arte che è stata realizzata dal maestro Sergio Sarra, dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Sappiamo che quest'anno l'accensione del Tripoli avverrà davanti alla Basilica di San Bernardino, rimarrà in tutto il periodo, dal 23 fino al momento dello spegnimento, fino al 29, e avevamo avuto appunto questa idea di realizzare o far realizzare un particolare contenitore che in qualche modo fosse anche dal punto di vista estetico e del valore importante. E così io contattai il presidente dell'Accademia di Belle Arti, il dottor Roberto Marotta, il quale si è messo immediatamente a disposizione per una emergenza di questo genere, e contattò a sua volta Marco Brandizzi, che è il direttore dell'Accademia, e insieme noi del Comitato Perdonanza, con i docenti e il direttore dell'Accademia di Belle Arti, abbiamo elaborato questa idea che oggi giunge a compimento. La perdonanza celestiniana ha commentato invece il sindaco Massimo Cialente, il nostro orgoglio, un messaggio di pace, solidarietà, fratellanza, rispetto, integrazione, uguaglianza, accoglienza. Ad aprire la Porta Santa, con i classichi trettocchi per mezzo di un ramo d'olivo, quest'anno sarà il cardinale Beniamino Stella, prefetto della congregazione per il clero. Lo zio Costantino era stato arcivescovo della chiesa aquilana per 23 anni.